musica eccoci arrivati finalmente la nostra casa evviva evviva che bella la nostra casa è bellissima è vero Michael dai allora bambini in piano ho ricordo tutto ah finalmente casa dolce casa eh già mamma papà si si mamma andiamo a prenderla certo buona idea andiamo a prenderlo così possiamo vedere come stanno anche dopo tanto andiamo dai nonni andiamo dai nonni andiamo 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 eccoli eccoli i miei tesori cari ciao ciao papà ciao mamma ciao ciao nonni ma anche io Michael mi sei mancato cari come state bellissima poi sediamoci qua dai che così ci raccontate va bene ok ok dai e qui la piccola minua com'è stata oh no è stata veramente brava veramente sono stata molto contenta perchè non mi ha fatto nessun danno tranquilli io ho visto l'uomo spaziale poi ti sei perso abbiamo trovato l'uomo spaziale l'uomo spaziale l'uomo spaziale ma quante cose avete fatto ragazzi un po' più tante sono andata anche in pedalo mi sono tuffato dall'alto dall'alto dall'altissimo mamma mia io sono nascito a nascondermi a tuffarmi dai nato ma avevo anche paura che bravi ciao bambini ciao oh guardate c'è Nicole Nicole e Liam possiamo possiamo andare a giocare con loro sì possiamo dai dai va bene andate dai andate va vicino però eh solito eh va bene Nicole che bella un'uomo che hai mi piace tanto anche Liam grazie e voi come vi chiamate io mi chiamo Michael Michael e io mi chiamo Sofia oh 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 ehi ragazzi che ne dite se giochiamo a nascondino sì dai sì giochiamo andiamo andiamo guardate ma che cos'è oh che cosa eh eh questo ma io eh sembrerebbe proprio uno standecco con me ciao amici siamo più stable e mobile iscrivetevi al nostro canale e facete l'esplode e boom e boom che mi è tornare qui